L'amministrazione di Ispica, con in testa il primo cittadino, Pierenzo Muraglie, è al lavoro per cercare di intervenire nelle zone della città, dove da tempo i cittadini lamentano mancanza di sicurezza e furti continui, causati anche dalla mancanza di illuminazione in molte zone. È stata infatti ripristinata la pubblica illuminazione sulla strada provinciale 67, nel tratto interessato dei furti di cavi. Un problema difficile da arginare, su cui però l'amministrazione Muraglie si muove con pugno di ferro. L'intervento, interamente a carico del bilancio comunale, ha rappresentato un importante sacrificio economico per l'ente, come ha sottolineato il sindaco Muraglie, che ha anche spiegato come altri interventi sul territorio siano ancora necessari per garantire un adeguato livello di sicurezza e come l'amministrazione comunale sia al lavoro per accogliere le tantissime legittime istanze dei cittadini. È opportuno però ricordare, ha spiegato Muraglie, che nell'amministrare un ente dissestato molteplici sono le difficoltà. Inoltre, i tempi e le risorse a disposizione sono nettamente inferiori rispetto a quelle di cui può disporre un ente normale. Tuttavia, un altro impegno assunto con la città è stato mantenuto.